Ed eccoci qua carissimi amici, è quasi mezzogiorno, il Marvin Tour sta proseguendo bene e grazie a Cristiano Polliti sono arrivato anche qua, guardate qua carissimi amici, il buon Cristiano ci ha messo una buona parola al demolitore e rivenditore e mi ha fatto entrare in questa zona, guardate qua carissimi amici, il Marvin vi sta facendo vedere uno spettacolare lancia esagamma trattore, fantastico, guardate qua carissimi amici, è davvero un peccato vederlo qua in una rivendita che aspetta qualcuno che lo venga a prendere, è davvero fantastico, meriterebbe subito di essere preso, guardate qua carissimi amici, ve lo faccio vedere, documento spettacolare, ringraziamo qua il rivenditore che ci ha dato la possibilità di fare delle foto dei filmati, anche con l'ipotesi insomma di concludere qualche affare, insomma magari qualche appassionato, può prendersi questo fantastico lancia esagamma, trattore, lo dedico a tutti gli appassionati, a tutti gli amici dei camion vintage, di tutte le associazioni, guardate qua carissimi amici, davvero fantastico lancia esagamma, gustatevelo bene, guardate qua che gran chicca, che gran pezzo che il Marvin vi fa vedere, davvero fantastico, probabilmente qualche appassionato conoscerà questa zona, io vi faccio vedere qua il lancia esagamma, fantastico da vedere, qua si vorrebbe l'amico Giuliano che ci spiega tutti i dettagli, i particolari, però c'è poco tempo qua perché c'è tanta roba da filmare e fotografare, qua mi devo adesso arrampicare, eccoci qua carissimi amici, questo lancia esagamma qua in buono stato, tenuto bene, probabilmente magari qualche piccolo lavoro di restauro era già stato fatto al tempo, guardate qua carissimi amici, fantastico lancia esagamma, qualcuno lo venga a prendere perché è davvero un peccato vederlo in questa zona che sta aspettando, qualcuno che lo venga a prendere prima che il tempo lo distrugga, insomma, la pioggia e la neve qua, può fare qualche danno fantastico, lo andiamo a vedere qua nei dettagli, lo dedico a tutti i miei amici appassionati di camion, nonché agli amici come un Giorgio, come un Vittorio, tutti gli amici qua del Trentino, tutti gli appassionati amici dell'Aite, tutti gli amici dei camion storici nord-est, eccolo qua, tutti gli amici trevisani, guardate qua carissimi amici, fantastico lancia esagamma, insomma ve l'ho fatto vedere, e insomma concludiamo qua il filmato su questo 190-26 che sta andando lo sfasso, insomma guardate qua il muschio ormai si è impossessato della cabina, ma insomma guardate qua questo lancia esagamma, fantastico veramente, un peccato vederlo qua, dai, spin ficciatevi, venitelo a prendere, carissimi amici è un peccato vederlo qua, e attenzione che non è finita, poi faremo il filmato di quell'altro lancia esagamma, intanto vi saluto